Vi presentiamo la nuova linea di sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante, Rossato Group. Eco Wall Dry, è il sistema radiante per installazione a parete o a soffitto. Costituito da pannelli preassemblati in cartongesso. L'ufficio tecnico Rossato Group elabora ad hoc, il disegno dell'impianto, sulla base dei fabbisogni dello stabile, e tenendo conto delle esigenze particolari del cliente. Il primo passo nell'installazione di Eco Wall Dry, è il montaggio della struttura metallica portante, che permette il corretto posizionamento dei pannelli preassemblati. Il collettore viene posto in posizione baricentrica rispetto allo stabile. Da qui si diramano le linee di distribuzione, la linea rossa per la mandata, e la linea blu per il ritorno. I pannelli Eco Wall Dry, sono leggeri e semplici da montare. Le guide disegnate sul cartongesso, contrassegnano la posizione del circuito. E consentono di fissare il pannello alla struttura portante, evitando di forare il tubo. Tra le file di pannelli viene mantenuto uno spazio vuoto. Per connettere con comodità l'impianto idraulico, e ispezionarlo se necessario. Si passa quindi al collegamento idraulico. Viene troncata la linea di distribuzione, dove andrà poi, collocato il raccordo. Tramite il calibratore, il tubo viene arrotondato, può tenere una giusta unione con il raccordo. Il tubo viene inserito fino a fine corsa. Con il calibratore vengono svasati tutti i tubi in modo che il raccordo, combaci perfettamente con esso. Le caratteristiche tecniche di questo particolare raccordo, consentono di connettere le tubazioni con estrema sicurezza senza rischio di perdite nel tempo. In seguito, viene connesso il circuito idraulico, realizzato con tubo da 8 mm impex, con barriera d'ossigeno. La stessa operazione viene ripetuta per tutto l'impianto. Su ogni tubo, e su entrambe le linee di distribuzione. Una volta completata la posa, viene effettuata la prova di tenuta dell'impianto. In modo da verificare che durante le operazioni di posa sia stato tutto collegato perfettamente. Superata la prova di tenuta, vengono preparati i parnelli di tamponamento. Che andranno a chiudere le zone inattive dell'impianto. Il parnello tampone, è leggero e facile da lavorare. È possibile praticare forature o tagli. Per l'installazione di eventuali sistemi, come i punti luce. Infine, i parnelli per la tamponatura vengono installati, avvitandoli sulla struttura metallica. Dopo che il soffitto è stato chiuso, e completata la tamponatura, si potrà passare alle successive fasi di rifinitura. I parnelli EcoWallDry, verranno stuccati, e diventerà un soffitto a tutti gli effetti. Con il grande vantaggio di avere un sistema efficiente per la climatizzazione del tuo ambiente. Ed ora potrai finalmente goderti il comfort e il risparmio di EcoWallDry. Il sistema radiante in cartongesso, Rossato Group. Grazie a tutti.